Si spalancano i cancelli dell'Oroge Stadium di Romanuzzi per Moreno Zebi. Di fatto la stagione 2020-2021 per il Cesene è già partita con la presentazione del nuovo direttore sportivo. A fare l'innoire di casa è il presidente Corrado Augusto Patrignani. Noi siamo una società rock e quindi questa setta è caduta su Moreno Zebi perché io ho avuto modo di conoscerlo ieri, mi era già stato descritto come una persona molto attiva, molto intraprendente, che ha voglia, che ha tanta fame e quindi sicuramente mi ha fatto l'impressione di essere una persona molto rock anche lui. Il ricordo di Zebi a Cesena ancora vivo nel 2008-2009 con Pierpaolo Bisoli disputò l'annata in bianco-nero, ma quale Cesena vedremo in campo? Noi paura non dobbiamo averla. Voglio una squadra di gente umile, voglio un ambiente di persone umili, ok? Ma umili non vuol dire remissive o che stanno lì aspettando l'evento. Umile vuol dire che sono disposto a morire in campo. Quella è una grande dimostrazione di umiltà. Giocarsi le partite veramente è un taglio che io mi piacerebbe che la nostra squadra possa avere. Credo che il mister Viali abbia, sia assolutamente allineato su questo ragionamento. Il taglio deve essere quello di una squadra che era in banda. Abbiamo la necessità di fare comunque, di inserire dei giovani. I giovani hanno bisogno di, cioè, delle briglie lente, gente che deve andare. Io voglio una squadra che abbia grandissima entusiasmo. Lo deve trasmettere. Io voglio una squadra che abbia grandissima,